Ben trovati, ben trovate dal vostro Andrea Cartotto, questa volta per la mia rubrica Leggi con Cartotto, una playlist che tempo fa ho voluto creare per fornire davvero spunti di lettura. Ho il privilegio di ricevere spesso da amici autori copie dei loro testi e io ne sono sempre onorato sapendo l'impegno e la fatica che c'è dietro la creazione di un prodotto editoriale. Motivo per cui devo rinnovare i ringraziamenti all'amico avvocato Simone Aliprandi che già è autore dell'autore artificiale, testo di riferimento sul tema della proprietà intellettuale del diritto d'autore legato all'intelligenza artificiale, ma Simone è anche il curatore di questo testo, il design nell'era della creatività artificiale. Facendo una battuta che non vuole svilire i contenuti del testo, potrei dire che la copertina vale già il prezzo dell'acquisto, eccola qui. Ma è un bel testo, con prefazione di Rosa Maria Di Giorgi, rivolto a docenti, personale che opera nel mondo della scuola, studenti ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado, ma anche cittadini professionisti che vogliano un pochino meglio interessarsi al tema. È suddiviso in capitoli tematici, d'altronde è una curatela, quindi ci sono autori esperti che si confrontano su diversi ambiti con filo conduttore, quello dell'intelligenza artificiale, ma vado a scorrere perché a pagina 73, tanto per farvi entrare nello spirito del libro, c'è una risposta semplice che ci spiega come nascano quelle immagini che vediamo, e io posso immaginare anche la copertina del libro, frutto di intelligenza artificiale generativa, che vada appunto a raffigurare immagini. Leggo e cito testualmente. Pensare che l'AI, per rispondere con un'immagine a un input testuale, prompt, vada a cercare qua e là immagini coerenti con la richiesta e ne faccia una specie di collage, è una tentazione in cui è facile cadere. Bella spiegazione, semplice e lineare. In realtà il meccanismo è diverso. L'AI risponde non tanto reimpastando cose, che ha in una sua fantomatica memoria, quanto proponendo qualcosa che viene generato istantaneamente sulla base di ciò che il sistema ha imparato a fare e che ritiene possa soddisfare meglio la richiesta dell'utente in ottica probabilistica. Pagina 73 è, a mio modesto modo di vedere, una splendida spiegazione di come funzioni in linea generale l'intelligenza artificiale. I contributi sono di differenti autori, naturalmente. Il libro è edito da l'edizioni. In quarta di copertina troviamo i vari autori che hanno contribuito, quindi lo stesso Simone Aliprandi, Serena Bedini, Francesco Bonomi, Rosa Maria Di Giorgi, Francesco Fumelli, Maurizio Galluzzo, Antonio Glessi, Francesca Parotti, Simone Paternic, Marco e Romano, Chiara Rubessi. Io ve lo consiglio. L'Isia di Firenze, un istituto pubblico di livello universitario, va a editare pubblicazioni, se mi permettete, come Lewis, di qualità, di valore, scientifico ma anche divulgativo. Secondo me lo leggete anche sotto l'ombrellone, su un prato, comodamente a casa sul divano. Non lo vedo come un libro per tecnici, ma è un libro che può aprire la mente su alcuni temi. Spero di esservi stato utile. D'altronde, leggi con cartotto. D'altronde, leggi con cartotto.